Il premio invece riceverà un bellissimo DVD di tutta la manifestazione Poi c'è il premio simpatia e premio interpretazione Quindi poi andremo a vedere chi sarà il vincitore di questa serata Quindi rimanete qui con noi, il backstage continua con tutte le prove E noi mangiamo un altro po' di noccioline, che dite? Vai! No! No!